torniamo a parlare nuovamente del samsung galaxy tab a7 lite e del samsung galaxy tab s8 plus perché in pratica dopo l'aggiornamento del galaxy tab a7 lite alla nuova versione di android 13 con la versione della one ui core 5.0 ero curioso di vedere quali differenze si hanno tra un tablet del valore più di 700 euro e un tablet che invece costa meno di 200 euro come diamo la versione della one ui è la stessa e la 5.0 però per il tab a7 abbiamo la core per il tab s8 abbiamo invece la one ui classica entrambi sono basati su android 13 mentre per le patch di sicurezza sono di dicembre per l'S8 plus di novembre e solitamente si aggiornano ogni due tre mesi per la 7 lite oltre a questo andando in connessioni abbiamo la stessa gestione del wifi del bluetooth modalità offline utilizzo tethering e altre impostazioni della rete se andiamo sul wifi e andiamo in pratica qui come vediamo per entrambi è presente l'intelligent wifi con una differenza abbiamo dei menu in più per l'S8 plus rispetto al rispetto alla 7 lite dove nella 7 lite abbiamo solamente non abbiamo il rileva reti sospette la modalità di risparmio energetico wifi e non abbiamo anche la priorità in tempo reale oltre che mostra le info sulla qualità della rete che invece sono presenti nell'S8 plus andando poi a cliccare più volte su intelligent wifi comparirà per entrambi le opzioni sviluppatore del wifi e come vediamo avremo le stesse informazioni in questo caso con le stesse caratteristiche quindi da questo punto di vista nessuna differenza andando su dispositivi connessi invece che cosa abbiamo abbiamo per entrambi il menu quick share con mutazione automatica delle buzz le chiamate e testo su altri dispositivi e continuate a utilizzare le applicazioni su altri dispositivi come vediamo abbiamo lo stesso menu per quanto riguarda diciamo anche la chiamata su testo e poi abbiamo smart things e android auto per la 7 lite mentre invece abbiamo smart view samsung dex che ovviamente manca sulla 7 lite e smart things in più nell'S8 plus abbiamo anche la funzione del controllo multiplo e del secondo schermo quindi il tablet può essere utilizzato come secondo schermo coadiuvato ad un computer di controllo multiplo che ci consente in pratica di controllare il tablet e trascinare elementi tra diversi dispositivi che utilizzano in pratica lo stesso account quindi tra un computer galaxy book e il nostro tablet funzionalità che manca nel a7 lite in modalità e routine abbiamo le stesse modalità sono la guida esercizi relax lavoro con la possibilità di aggiungere una nuova modalità da noi creata e in routine abbiamo anche in questo caso la possibilità di avere lo stesso campo di impostazioni di cercare delle routine sulla base di quello che prevede il menu del dispositivo e quindi anche qui abbiamo le stesse funzionalità in suoni e vibrazioni abbiamo la stessa suddivisione dei suoni vibrazione silenzioso vibra e squilla suoneria suono di notifica audio di sistema in suoneria mi sembra che le suonerie sono le stesse quindi sono state aggiunte over the horizon 2022 anche by suga bts sono state aggiunte su entrambi e dovrebbero essere gli stessi livelli di suoneria così come il suono di notifica forse qualche notifica suono di notifiche in più infatti c'è questo hot beat bounce che invece manca sul tab a7 lite c'è la stessa suddivisione dell'audio di sistema con lo stesso menu del volume e anche vibrazione di sistema in più l'intensità di vibrazione qualità e separa audio applicazione che è presente praticamente allo stesso modo in notifica abbiamo entrambi le notifiche delle per singole applicazioni abbiamo le notifiche nella schermata di blocco con lo stesso menu il stile pop up con la stessa funzionalità e come vediamo nel per quanto riguarda il lo stile nel nelle notifiche compatte abbiamo entrambi le stesse possibilità con le stesse gestione del colore e in avanzate abbiamo lo stesso elemento in più nelle s8 plus però abbiamo anche la trasparenza per quanto riguarda le notifiche a colore che manca invece nel nella 7 lite e poi lo stile dell'illuminazione age e poi abbiamo il colore per parole chiave per entrambi indettagliati invece su entrambi non abbiamo nulla andando poi indietro nella modalità non disturbare abbiamo per entrambi la possibilità di consentire durante la modalità non disturbare solamente per alcuni contatti e in più in notifiche applicazioni abbiamo la stessa gestione di poter raggiungere le applicazioni dove potremo ricevere le notifiche anche quando è installata la modalità non disturbare in schermo abbiamo sempre l'impostazione su divisione giorno notte per entrambi impostazioni modalità notte luminosità nel caso della luminosità abbiamo quella manuale e poi la possibilità di gestire la luminosità adattiva per entrambi protezione degli occhi su entrambi l'uniformità di movimento che è presente solo per l'S8 standard o alta 120 hertz poi abbiamo la modalità di schermo che è presente solo sull'S8 suddiviso in vivida e naturale e poi abbiamo lo stesso stile e zoom dello schermo nello spegnimento dello schermo rimane 30 minuti il massimo per l'A7 10 minuti per l'S8 poi abbiamo per entrambi i pannelli take edge e sono rimasti le stesse funzionalità con in più nel con in più nel a7 light e stato aggiunto anche il pannello pre memoria che se non sbaglio viene installato solamente quando andiamo a installare l'applicazione pre memoria sul dispositivo come vediamo però i tab del tech dei pannelli in pratica diciamo sono i medesimi tra tutte e due con l'unica differenza che nel essendo presente in pratica la S pen è presente i messaggi live che invece manca come pannello nel A7 light tornando indietro abbiamo per entrambi la barra delle attività che è un'aggiunta interessante sul A7 light e come vediamo abbiamo le stesse applicazioni presenti in basso con la possibilità di vedere anche il mostra applicazioni recenti anche su entrambi quindi anche qui abbiamo la stessa funzionalità tornando sempre indietro abbiamo poi la barra di navigazione per entrambi con la possibilità di avere i gesti di trascinamento sul su entrambi e in altre opzioni abbiamo anche la possibilità di avere la sensibilità dei gesti su entrambi trascina per app assistente sulla A7 light in più tornando indietro abbiamo sempre i suggerimenti dei tasti e blocca gesti con S pen che è presente solo sull'S8 perché ovviamente è presente la S pen solo sull'S8 dato che il tab A7 light non ha il un pannello al pari con digitalizzatore wacom come ce l'ha l'S8 plus in sfondo e stile anzi in schermo poi abbiamo in più nell'S8 plus abbiamo anche la sensibilità al tocco che invece manca nel nel tab A7 light in sfondo e stile praticamente abbiamo la stessa impostazione quindi abbiamo possibilità di utilizzare gli sfondi personali nella grafica abbiamo gli stessi quattro elementi e in colori abbiamo gli stessi sfondi quindi anche qui non è variato niente abbiamo i servizi per gli sfondi su entrambi in schermata home abbiamo la stessa funzionalità quindi solamente la schermata home e schermata home applicazioni su entrambi poi abbiamo la possibilità di aggiungere notizie alla schermata home tramite google discover o samsung free nel nel tab A7 oppure google discover e samsung o per quanto riguarda invece l'S8 in pratica samsung free è stato sostituito da samsung o ma è la stessa cosa per il per la 7 importante notare è che nella 7 quando utilizzavamo android 12 con samsung free avevamo una limitazione in pratica utilizzando samsung free con android 12 non era possibile utilizzare la tv inglobata nell'applicazione stessa quindi quando andavamo a watch con android 12 la tv non funzionava tramite samsung free bisognava scaricare a parte il programma tv plus di samsung andando su watch anche in questo caso ci dice impossibile connettersi perché non è disponibile nella nostra posizione attuale ovviamente il wifi funziona quindi anche in questo caso samsung tv plus non funziona direttamente da samsung free bisogna utilizzare l'applicazione samsung tv plus ritornando indietro in impostazioni abbiamo poi la stessa funzionalità per quanto riguarda la possibilità di avere bg con applicazione trascina giù il pannello delle notifiche e cerca nella home che sono presenti su entrambi in schermata di blocco abbiamo anche qui il tipo di blocco schermo uguale ovviamente nell s8 c'è anche l'impronta digitale che manca nella 7 light dove è presente solamente lo sblocco con il viso smart look impostazioni blocco sicuro per entrambi poi la possibilità di suddividere la schermata di blocco e i widget su entrambi e tieni premuto per modificare in più c'è anche l'orologio in roaming sul a7 light che manca sull s8 plus in sicurezza e privacy abbiamo praticamente la stessa gestione con gli stessi menu tranne che è presente anche samsung pass per quanto riguarda la possibilità di gestire di introdurre delle carte di credito e quindi di gestire le password delle carte di credito che manca nella 7 light mentre è presente anche i dati biometrici è presente l'area personale che in pratica non si trova nel nella 7 il wifi protetto è presente sulla su entrambi così come private share che è presente in pratica su entrambi in posizione abbiamo invece lo stesso tipo di menu così come in sicurezza ed emergenza abbiamo lo stesso menu in più nel nella 7 light abbiamo anche condivisione di emergenza che manca in pratica oltre che avvisi di emergenza wireless che mancano in pratica nell s8 plus perché la 7 ha anche lo slot per la sim che invece manca in questa versione dell s8 plus in account e backup abbiamo la possibilità di gestire gli account di avere il multi utente per entrambi di vedere quali dati sono sottoposti al backup e praticamente sono gli stessi per entrambi il ripristina dati i dati sottoposti al backup sotto google drive e poi smart switch che funziona su entrambi in google abbiamo lo stesso tipo di menu in funzioni avanzato ovviamente qui abbiamo delle funzionalità in più per l s8 plus e in particolare abbiamo il menu s pen che non è presente nella 7 light perché manca la s pen ma se andiamo in questo laterale come vediamo abbiamo la diciamo le abbiamo la possibilità di utilizzare con due tocchi la stessa cosa di avviare la fotocamera di aprire un'applicazione a nostra scelta in più con la pressione prolungata per l s8 abbiamo la possibilità di attivare bixby che manca ovviamente come assistente vocale nel nella 7 light mentre invece è presente sull s8 plus con la possibilità di avere un menu di spegnimento o di attivare lo stesso assistente vocale in più ci viene spiegato come spegnere il tablet quando con la pressione prolungata abbiamo attivato il nostro assistente vocale poi abbiamo in movimenti e gesti la stessa funzionalità con il doppio tocco per accendere lo schermo il doppio tocco per spegnere lo schermo e in più acquisisci col trascinamento del palmo una schermata in più abbiamo lo schermo esterno audio disattivato quindi disattiva l'audio delle sveglie mettendo la mano sullo schermo che non è presente sulla 7 ma è presente sull s8 e nell s8 è presente anche lo schermo attivo mentre in uso in più abbiamo i suggerimenti smart che sono presenti nell s8 plus per diverse applicazioni e mancano nel a7 light continuando nelle funzioni avanzate e andando in labs come vediamo abbiamo le stesse funzionalità quindi multi schermo per tutte le app schermo intero in visualizzazione a schermo diviso e il multi schermo con una finestra con android 13 nel tab a7 light è stata aggiunta anche la possibilità del trascina per vista pop up e trascina per vista a schermo diviso che troviamo anche nell s8 plus nell s8 plus dicevo prima poc'anzi c'è il menu a parte delle spen in registrazione schermo e schermate abbiamo qualcosa in più nell s8 plus rispetto alle schermate della 7 light perché manca la registrazione dello schermo nella 7 light abbiamo quindi il mostra barra strumento dopo la cattura elimina dopo la condivisione il nascondibar del formato per quanto riguarda le schermate in più nell s8 plus c'è anche il menu a parte per la registrazione a schermo che manca nella 7 light poi abbiamo il mostra contatti su entrambi e il game launcher su entrambi in più nell s8 plus c'è la bacheca giornaliera c'è accessori ovvero utilizzando una cover al libro abbiamo la possibilità di sbloccare il dispositivo automaticamente quando lo apriamo e di bloccar quando lo chiudiamo che manca nella 7 light abbiamo gli effetti della videochiamata che mancano nella 7 light abbiamo anche la luminosità video che manca nella 7 light che impone tra una luminosità normale più luminoso quando utilizziamo delle applicazioni specifiche come amazon prime youtube netflix o lettori video e poi abbiamo il doppio account che consente di avere e di suddividere ad esempio con due account differenti le applicazioni per esempio per un ambito lavorativo o per un ambito più o meno e per un ambito ovviamente non lavorativo quindi queste sono le funzioni in più in benessere digitale abbiamo le stesse funzionalità con in più c'è il monitoraggio del volume sull s8 plus che manca nella 7 light in assistenza dispositivo abbiamo in pratica la possibilità di avere le stesse caratteristiche così come in batteria abbiamo lo stesso menu risparmio energetico i limiti d'uso con le applicazioni in sospensione sospensione avanzata e app ma in sospensione per entrambi uguale con lo stesso grafico e in altre impostazioni batteria abbiamo la batteria adattiva mostra perciunto alle batterie ricarica rapida per entrambi ricordiamo che la ricarica rapida nella 7 light si attua solamente quando utilizziamo un carica batteria da 15 watt poiché quello in commercio o meglio quello presente all'interno della confezione della 7 light arriva a meno di 10 watt quindi non usufruisce della ricarica rapida è stata aggiunta però la protezione batteria anche per la 7 light che mancava con android 12 poi in memoria archiviazione abbiamo la stessa grafica così come in memoria normale dove è presente su entrambi l'utilizzo del ram plus ovviamente fino a 8 giga per l'S8 plus fino a 4 giga per il la 7 light con la possibilità di attivarlo disattivarlo per entrambi in più c'è la protezione del dispositivo per entrambi tramite l'utilizzo di mcafi e in applicazioni troviamo le stesse funzionalità scegli applicazioni predefinite impostazioni per le app di samsung e poi tutte per le applicazioni personali tutte le modifiche possibili e immaginabili e gestisce autorizzazioni accesso speciale e ripristina per entrambi allo stesso modo in gestione generale abbiamo anche qui l'utilizzo della lingua lingue applicazioni da testo in voce su entrambi in più nell'S8 plus c'è anche l'inserimento vocale che è valido solamente però in questo caso per l'inglese è il cinese per se si utilizza per quanto riguarda il dizionario in offline e che manca nella 7 light e poi nelle impostazioni di tastiera samsung abbiamo praticamente come vediamo le stesse lo stesso menu su entrambi quindi anche in questo caso nessuna cosa in più dell'S8 plus rispetto all'S7 se non la gestione della S pen a testo quindi del riconoscimento della calligrafia quando si scrive a penna e direttamente la conversione in testo che ovviamente manca nella 7 infine in accessibilità anche qui abbiamo gli stessi menu se andiamo in consigliate per voi abbiamo le stesse caratteristiche in talkbow abbiamo lo stesso menu in assistenza vocale abbiamo la stessa funzione con in più il Bixby Vision per l'accessibilità che non è presente nella 7 light poi abbiamo i miglioramenti per la visibilità con gli stessi menu per entrambi quindi c'è in più in pratica nell'S8 plus c'è in più l'attenuazione extra che manca nella 7 light in miglioramenti della visibilità in ausili per l'udito invece abbiamo anche qui lo stesso menu con in più la preferenza, i sottotitoli in tempo reale che mancano nella 7 light e sono presenti nell'S8 plus e in più il supporto agli apparecchi acustici che è presente nell'S8 plus e che manca nella 7 c'è l'adapt sound che manca nella 7 light e c'è anche amplifica il suono ambientale che manca nella 7 light oltre che poi diciamo la stessa gestione del menu per quanto riguarda le altre caratteristiche in interazione manualità abbiamo anche qui la stessa funzionalità con in più la risposta e chiusura delle chiamate per la 7 light visto che qui è possibile utilizzare una sim e nell'S8 no c'è la durata del tocco per entrambi ignora tocchi ripetuti e c'è il controllo di interazione per entrambi e poi ci sono tutte le altre funzionalità per entrambi in impostazioni avanzate abbiamo come vediamo lo stesso menu tra cui anche la notifica con flash ovviamente è possibile nell'S8 plus utilizzare anche il flash posizionato alla fotocamera posteriore mentre nella 7 light visto che manca il flash nella fotocamera posteriore come vediamo non è presente non abbiamo la stessa funzionalità della notifica che in questo caso sarà presente solamente sullo schermo in più abbiamo poi i tempi di reazione praticamente lo stesso abbiamo le applicazioni installate e l'info sull'accessibilità aggiornamento software manuale utente è presente su entrambi ed è presente anche sulla 7 light come l'S8 plus l'assistenza da remoto quindi in definitiva come possiamo vedere i due menu sono molto molto simili e c'è solamente qualche aggiunta con la One UI 5.0 rispetto alla One UI Core 5.0 ovviamente data la quantitativa maggiore di memoria RAM e di memoria interna la One UI gira benissimo sull'S8 plus mentre essendo molto pesante pur se alleggerita di qualche funzionalità rispetto alla principale One UI anche la One UI Core 5.0 presente nella 7 light risulta abbastanza pesante quindi non gira con la stessa fluidità che è presente nell'S8 plus sia